Buongiorno, oggi vorrei condividere con voi il metodo che utilizzo per conservare le lenzuola è un metodo davvero molto pratico e in più vi consente di conservare le lenzuola in modo ordinato e occupano anche poco spazio all'interno dell'armadio vi faccio vedere sia come piego le lenzuola del letto matrimoniale e anche quelle del letto singolo iniziamo con quelle del letto matrimoniale per prima cosa iniziamo a piegare il lenzuolo con gli angoli vado a piegarlo sul lato della lunghezza, quindi vado ad inserire l'angolo testa con l'altro angolo del lato testa e la stessa cosa faccio angolo lato piedi, lo vado ad inserire nell'altro angolo lato piedi dopodiché vado a sistemare gli angoli e li piego per bene e vado a piegarlo in due quindi vado ad unire angolo testa con angolo lato piedi, quasi a formare diciamo un quadrato eccolo qua successivamente vado a piegare in tre iniziando dalla parte in basso lo piego verso il centro e la stessa cosa faccio poi successivamente con la parte superiore la vado a piegare verso il centro in modo da avere una striscia in questo modo dopodiché lo vado a piegare al libro in tre quindi lo piego su se stesso e vado a piegarlo ulteriormente il lenzuolo con gli angoli l'abbiamo terminato adesso passiamo al lenzuolo quello superiore allora vado a piegarlo sempre sul lato della lunghezza e quindi vado ad unire sempre lato testa con l'altro lato testa la stessa cosa vado ad unire angolo piedi con l'altro angolo piedi successivamente lo vado a piegare in due quindi unisco lato testa e lato piedi poi vado a girarlo al contrario in modo da avere il disegno verso il basso in questo modo, quindi lo giro sotto sopra adesso lo vado a piegare nuovamente in tre quindi dal basso verso il centro e dall'alto verso il basso quindi andremo a formare una striscia in questo modo adesso ci restano da piegare le federe iniziamo con la prima federa vado a piegare sul lato della lunghezza a metà vado a ripiegarla nuovamente dal basso verso l'alto poi la vado a ripiegare al libro e una delle due federe l'abbiamo piegata adesso l'altra federa invece la vado a piegare solo sul lato della lunghezza in tre quindi da basso verso il centro e dall'alto verso il basso ok, questo sarà il risultato finale quindi avremo in basso il lenzuolo quello di sopra in alto a sinistra avremo il lenzuolo quello con gli angoli al centro avremo la federa piegata al libro e accanto avremo l'altra federa piegata solo in lunghezza adesso andiamo ad assemblarle allora, prendiamo il lenzuolo con gli angoli e lo andiamo a posizionare in basso a sinistra sul lenzuolo quello di sopra e poi andiamo a piegare al libro prendiamo la federa la andiamo a posizionare sopra e andiamo nuovamente a piegare al libro adesso andiamo a prendere la federa quella che abbiamo piegata solo in tre e la andiamo a posizionare sotto alla parte del lenzuolo di sopra che ci resta sul lato destro e la andiamo a posizionare in modalità centrale forse è più chiaro guardando le immagini ok, una volta posizionato sotto lo andiamo a ripiegare come potete vedere quindi piego la parte inferiore e la parte superiore e poi vado a ripiegare al libro in questo modo il risultato finale sarà questo sarà un fagottino appunto con le lenzuola tutte belle ordinate e anche compatte perché come potete notare occupano anche pochissimo spazio ok, adesso passiamo alle lenzuola del letto singolo iniziamo sempre dalla parte con gli angoli vado ad inserire gli angoli l'uno all'interno dell'altro sempre sul lato della lunghezza li vado a sistemare quindi cerco di piegarli il più possibile con le mani cerco di sistemarli anzi il più possibile con le mani dopodiché vado a piegarlo su se stesso partendo dal basso verso il centro lo piego sempre in tre quindi dal basso verso il centro e poi dall'alto verso il basso dopodiché lo vado a piegare sempre al libro e la parte con gli angoli l'abbiamo piegata adesso passiamo alla parte del lenzuolo quello superiore vado ad unire lato piedi con lato testa quindi a differenza del lenzuolo matrimoniale che andiamo a piegare lato testa lato testa e lato piedi con lato piedi nel caso del lenzuolo del letto singolo andiamo ad unire lato testa con lato piedi quindi lo andiamo a piegare a metà successivamente lo andiamo a ripiegare su se stesso dal basso verso l'alto poi ricontinuiamo a piegarlo sempre su se stesso quindi sempre dal basso verso l'alto e poi andiamo a piegare dall'alto verso il basso in questo modo quindi abbiamo in alto a sinistra il lenzuolo con gli angoli a destra ci resta la federa perché qui ne abbiamo solo una appunto perché è quella del letto singolo e in basso abbiamo il lenzuolo di sopra allora adesso andiamo a piegare la federa solo sul lato della lunghezza in tre quindi partiamo dal basso lo andiamo a piegare appunto verso il centro e poi dall'alto lo andiamo a ripiegare verso il basso ok abbiamo in alto a sinistra il lenzuolo con gli angoli a destra abbiamo la federa e in basso abbiamo il lenzuolo quello di sopra ok adesso andiamo ad assemblare come abbiamo fatto prima prendiamo il lenzuolo con gli angoli lo andiamo a posizionare a sinistra del nostro lenzuolo di sopra e iniziamo a chiudere al libro fino ad arrivare quasi alla fine quindi continuiamo a girarlo su se stesso e a questo punto andiamo a posizionare la federa sotto il lenzuolo sempre verso la parte centrale lo andiamo a posizionare andiamo a piegare sempre all'interno anche la federa sarà più chiara l'immagine che la mia spiegazione e una volta piegata su se stessa andiamo a chiudere sempre al libro e il risultato finale sarà appunto questo quindi avremo anche in questo caso un bel fagottino con le lenzuola belle sistemate e in ordine a questo punto il mio video è finito spero che vi sia piaciuto che possa esservi anche utile volevo condividere con voi questo mio metodo che io utilizzo per conservare le lenzuola se vi è piaciuto mettete un mi piace e se volete iscrivetevi anche al mio canale vi lascio al prossimo video un bacio ciao ciao ciao